un saluto a Leonardo Lamacchia e bentornato sui music fan ciao eccoci ciao simone ciao a tutti guarda noi abbiamo chiacchierato la scorsa estate in occasione del meraviglioso modugno ma discograficamente obiettivamente manchi da un po' esatto sì infatti c'è stato quest'anno e mezzo un po' di ripartenza di assestamento e sono contento di essere ripartito certo ma su quali aspetti della tua musica ti sei concentrato in tutti questi mesi diciamo di stop allora tanti aspetti personali tante cose mie riguardanti la mia vita e poi mi sono dovuto anche operare alle corde vocali quindi è stato un anno un anno e mezzo diciamo come dicevo prima di assestamento su molti punti di vista e quindi Aurora è la la prima fase di un nuovo percorso di un nuovo viaggio che sta partendo che è partito proprio il 19 di gennaio assolutamente tra l'altro è un brano estremamente particolare una vera e propria ballata pop ma con delle delle influenze estremamente moderne per te cosa rappresenta e dal punto di vista compositivo nel senso quali sono state le sensazioni che hanno guidato il percorso allora è stato tutto molto naturale in realtà perché il brano nasce in diverse fasi non è nato e finito un giorno soltanto e diciamo ci sono stati diverse diversi momenti che poi in maniera molto naturale si sono incontrati in un punto appunto sul titolo in realtà dal titolo poi dopo un viaggio in islanda fatto l'anno scorso dove abbiamo cercato l'aurora per una settimana ma non l'abbiamo trovata e quindi mi è rimasta un po' quella cosa quella cosa e soprattutto la parola ha iniziato a prendere la parola proprio Aurora ha iniziato a prendere un significato diverso poi da da quello che è un significato mio certo ma tra l'altro io credo che anche dal punto di vista testuale comunque c'è qualcosa in più un linguaggio forse ancora più pop ancora più contemporaneo da un certo punto di vista forse quasi indie ma non lo so forse sì forse no non c'è come dicevo prima è una cosa sicuramente derivante magari da diversi incontri anche con altri autori altre persone in questo periodo perché comunque continuato a scrivere continuato a fare tante cose in sordina quindi forse sì le influenze anche che ho assimilato anche da altri autori altre persone altri incontri assolutamente ma tra l'altro io credo comunque uno dei valori aggiunti di questo pezzo sia proprio la produzione di dario e di gianmarco grande beh sì dario e gianmarco hanno fatto un lavorone sono super contento di rilavorare con loro perché sia con dario che con gianmarco è già capitato è già successo in passato e sicuramente come dici tu hanno dato quel quid in più che rende il pezzo super riconoscibile super super fresco ma senti ma qual è l'aspetto del brano che ti rende maggiore l'interbollizzo allora allora forse forse un po il testo in alcune parti alcuni alcuni frasi alcune parole perché descrivono esattamente una fotografia di un attimo quindi forse sì il testo il testo sì in effetti il testo ha una particolarità come ti dicevo prima perché mi incuriosisce molto un testo estremamente curioso e anche diverso rispetto alla protoproduzione precedente quindi in effetti ci sta è un bel un bel ragionamento questo che tra l'altro appunto aurora è un nuovo inizio ma hai già una destinazione un obiettivo per questo viaggio allora in realtà ho scoperto cioè nel senso sì ce l'avrei ma è più una destinazione personale a livello personale che artistico perché ho imparato a fare le cose senza avere nessun tipo di aspettativa sul futuro perché credo sia poi quella la chiave di serenità e di vita in generale quindi sicuramente ho degli obiettivi o dei traguardi personali ma non mi pongo nessun tipo di obiettivo dal punto di vista professionale potrebbe succedere qualsiasi cosa eh e va bene così certo ma tra l'altro mi ha colpito una frase che ho scritto sui social qualche giorno fa ho imparato a fare promesse che non sai mantenere perdi alcuni pezzi nel percorso a volte anche pezzi molto importanti ma per riguarda anche quella che la tua carriera il tuo aspetto diciamo la tua la tua fase artistica e musicale sì è una frase che un po racchiude diverse sfere della della vita in generale però sia anche soprattutto dal punto di vista professionale artistico sì è successo di perdere delle cose di trovarne altre molto belle ma credo sia comune alla vita di tutti e bisogna solo saper stare al gioco forse certo ma tra l'altro appunto in questo in questo post parli anche dici anche lascio indietro tante cose per lasciare spazio a me stesso cosa lasci indietro dal punto di vista musicale e dal punto di vista musicale lascio indietro forse una rigidità mia personale di impormi delle cose come dicevo prima impormi di scrivere in un determinato modo di fare le cose in un determinato modo e lascio questa cosa indietro perché mi voglio dare la libertà di poter fare di potermi esprimere musicalmente sotto qualsiasi genere io un domani volessi volessi fare quindi è quella la rigidità certo interessante nella tua carriera comunque ci sono sanremo e amici oltre delle collaborazioni davvero importanti ma hai capito ora su quale aspetto concentrati per trovare la tua strada dal punto di vista artistico ma è su quello ci sembra banale dirlo però veramente su quello che sento che provo che quello che vivo quotidianamente perché puoi avere quella chiave di lettura personale credo sia anche quello una delle cose potenti nel linguaggio musicale certo ma anche perché io credo che comunque tramite la tua voce e la tua penna tu hai sempre cercato una certa riconoscibilità e bene o male appunto ci sei anche sempre riuscito l'avevo visto anche ad amici ma oggi appunto questo questa ricerca della dell'originalità della personalità come prosegue prosegue che si sperimenta tanto si fanno delle prove alcune vanno avanti altre sono bloccate bloccate subito e si va si va a tentativi come in qualsiasi come in qualsiasi secondo me in qualsiasi vita umana cioè bisogna andare a tentativi e come dicevo prima collegarlo poi le vibrazioni che questo che questi tentativi ti trasmettono quindi si può si possono fare tantissime cose diverse tra loro senza snaturarsi quindi secondo me questo è una una cosa importante ma rispetto a quando hai iniziato a fare musica quando si è affacciato per esempio a sanremo il mercato musicale è cambiato davvero ma quale aspetto di questo cambiamento ti piace moltissimo e quando invece non ti piace per nulla oddio allora allora forse è l'aspetto che mi piace che c'è molta più libertà d'espressione perché ci sono tantissimi artisti completamente diversi tra loro che comunque riscuotono un grande successo e anche se propriamente magari non sembrano pop ecco quindi questa è una cosa la varietà della musica che c'è in giro e forse anche questo potrebbe essere allo stesso modo un difetto perché le uscite cioè le uscite discografiche se pensiamo al corso della storia della musica che oggi sono arrivati ad un numero ci sono tantissime uscite ogni settimana ogni mese ogni c'è una velocità da quel punto di vista figlia del marketing che forse ha cambiato ancora di più le regole del gioco ma dubbio male questo questo cambiamento come pensi appunto di riuscire a cavalcare riuscire a non farti travolgere che punto non è semplice per nulla ma non è semplice per nulla secondo me c'è la chiave è fare tutto comunque perché io amo la tecnologia il progresso il cambiamento cioè secondo me ne sono sempre stato super affascinato quindi è bello vedere le cose che cambiano però ecco sicuramente forse pare tutto senza naturarsi senza rendersi ridicoli ecco certo beh poi comunque hai parlato di amare la tecnologia poi ami la musica e questo l'abbiamo visto in tutti questi in questi anni io non posso che ringraziarti che auguro buona musica diciamo che appunto che questa sia veramente l'aurora di un bel 2024 grazie a te simone un bacio a tutti